Spesso a prendermi, amata sensazione, torna a prendermi. Quando si risveglia la memoria del corpo e l'antico desiderio che agra nel sangue, quando labbra e pene ricordano e sulle mani è ancora viva la sensazione di toccare. Torna spesso a prendermi la notte, quando labbra e pene ricordano. Io vorrei proporre comunque di mettere la prima poesia che lei ha letto, di metterla proprio sul sito della libreria, proprio come sigillo di questo nostro...